È iniziata la Settimana Santa, la settimana che porta alla Pasqua di risurrezione. La Settimana Santa, come sempre, inizia con la Domenica delle Palme, che si è tenuta ieri. Tantissimi gli eventi in tutte le parrocchie della provincia di Parma, come quello che c'è stata a Fornovo. Queste sono le immagini che arrivano proprio da Livi, dove ieri, nella mattinata, attorno alle 9 e mezza, la gente ha iniziato a incontrarsi in Piazza Tarasconi per creare quel insieme di persone e che hanno poi preso l'ulivo, che è stato benedetto dal parroco Don Matteo. Una volta benedetto l'ulivo e dette le preghiere, accompagnati dalla corale della parrocchia, ci si è portati verso la chiesa, distante diverse decine di metri. Un lungo serpentone di persone si è snodato lungo via Don Malpeli, che probabilmente dall'assù è stato contento di vedere così tanta gente presenziare in questa Domenica. festa ed evento molto partecipato, infatti la via era completamente piena di persone e anche la chiesa era assolutamente molto affollata. Fondamentale è anche la presenza dei carabinieri della stazione locale con il comandante che si sono occupati anche di tenere in sicurezza l'evento. Grazie!